Bene, direi di iniziare la nostra conferenza stampa. Come sapete qui la Camera, i tempi sono contingentati, abbiamo un'ora e non possiamo andare oltre il dovuto. Io ringrazio tutti i presenti, ringrazio soprattutto Vincenzo Curatola di questa iniziativa che il Centro Nazionale per il Volontariato in qualche modo ha ritenuto bello e importante sostenere per quello che può sostenere. Credo che questa conferenza stampa qui alla Camera abbia anche un ruolo importante, dia un messaggio importante anche al Palazzo, come si dice, cioè alle istituzioni. Questo invito di conferenza stampa è stato inviato a tutti i parlamentari, a tutti i senatori, quindi più di mille persone e devo dire che in questi giorni ho avuto anche parecchi riscontri di persone che non potranno esserci ma che hanno così inteso, hanno ravvisato in questa esperienza che voi state viando in Italia una sorta di piccola perla sulla quale ragionare e investire. E allora provo a darvi, così offrirvi soltanto qualche spunto di riflessione, poi davvero lascio la parola a Vincenzo che poi insomma è forunzata, che siete voi i protagonisti di questo progetto e quindi la parola doverosamente va data a coloro che poi su questo progetto si impegneranno e faranno cose belle e importanti. Il primo elemento che mi sentirei di proporvi è questo vostro passaggio, l'ho letto in qualche appunto, Vincenzo, tu poi correggimi, da sostegno a distanza, che è tutta una esperienza legata alla dimensione internazionale, tutta una grandissima esperienza legata alla dimensione internazionale, a sostegno delle associazioni italiane, delle famiglie verso bambini, bambine, persone in difficoltà, comunità di altri paesi e in questo vostro progetto, io ho visto questo passaggio in qualche vostro documento che qualcuno lo chiama a sostegno a... Prego Stefano, si accomodi. Stefano, abbiamo solo iniziato. Stefano Zamagni, ciao Stefano. No, vabbè. Oh, prego, siamo al completo. Allora mi aveva molto incuriosito, anche stimolato questo passaggio, dove si diceva, si dichiarava da sostegno a distanza, che rimane un obiettivo, rimane un impegno, credo, per tutte le reti di Forunsa, di tutte le associazioni che svolgono questa missione da anni. In qualche documento, se Vincenzo non... Correggimi Vincenzo, si parlava di sostegno a vicinanza e mi piaceva molto quest'idea, cioè che in Italia questo sostegno si chiami sostegno a vicinanza. Mi pareva proprio che evocassi il tema della prossimità, il tema della vicinanza, il tema dell'amicizia, il tema della fraternità, il tema dell'accompagnarsi vicendevolmente. Questo tema è molto delicato, sapete perché noi ne stiamo parlando anche qui in Parlamento. Con questa vostra iniziativa lanciate un altro segnale di preoccupazione. Direi che, come dirvi, la vostra iniziativa è una punta di cono di una situazione che sta vivendo il nostro Paese riguardo al tema della povertà. Il nostro Paese ha circa, se ricordo bene, nei dati ultimi, una 10 milioni di povertà assoluta. Siamo il Paese che ha il più alto tasso di povertà infantile. L'ultimo calcolo di Istato, non ricordo bene se... O di Censis, parla di 1.200.000 bambini poveri. Per non parlare della povertà relativa, ma se ci vogliamo attestare su quella assoluta, i dati ci dicono che la situazione non è per nulla migliorata. Sapete che in Parlamento già ci sono parecchie proposte su questo tema del reddito di inserimento sociale, soprattutto quello che ha coinvolto l'Alleanza contro la povertà di tantissime associazioni, ed è un tema che stenta a farsi avanti ed entrare nel dibattito pubblico. Il vostro impegno in questa direzione lancia da una parte un segnale di persone e associazioni che in qualche modo, rispetto a una fatica del Paese che sta vivendo, reagiscono attivandosi. E qui parliamo davvero di cittadinanza attiva, di persone che non solo denunciano o talvolta si indignano, ma di persone che di fronte a una fatica, a una difficoltà, delle proprie comunità nelle quali vivono decidono di impegnarsi. E dall'altro però indica un'emergenza che non può essere soltanto risolta con la collega Vanna Iori, che non può essere risolta soltanto appunto da un'azione del Forum SAD, di un'azione di prossimità, ma che richiede un impegno corale, un impegno della politica, un impegno delle istituzioni. Quindi una sorta da parte vostra, che io la vivo così, un interpello, ecco, non solo al civile, ma un interpello anche alle istituzioni. Ecco, una chiamata alla responsabilità. Con la vostra forza di testimonianza, di persone che dicono, chiamiamola responsabilità, ma noi un pochino di responsabilità decidiamo di assumercela. La terza notazione che mi sentivo di proporvi è che questa esperienza, lo dice anche il vostro documento, almeno quel materiale che ho letto, invita in qualche modo anche a una riflessione, forse l'ennesima, perché un po' su queste cose ne discute da anni, ma io dico sempre, è sempre utile, a cosa dovrà essere, vorrà essere il welfare nei prossimi anni. Si parla di welfare community, si parla di welfare generativo. E allora comprendete che su questo dibattito le esperienze di innovazione sociale, le esperienze che in qualche modo costruiscono un piccolo laboratorio, sulle quali poi evidentemente le politiche, le politiche di un comune, le politiche di una regione, le politiche di questo Parlamento, si possono in qualche modo riflettere, diventano utili e importanti. Oggi il welfare, che dovremmo pensare per i prossimi anni, non è un welfare, come qualcuno forse pensa ancora, residuale, dove si riducono i diritti. Ma semmai un welfare che è proprio non residuale, ma che proprio incrementa, aumenta i diritti. Ma questo lo si può fare, appunto, ed è questo l'altro messaggio importante, che mi pare la vostra esperienza mette in evidenza, chiamando la responsabilità a tutti i soggetti di un territorio. Nei vostri documenti, in questa esperienza che avvierete nelle regioni del sud, parlate spesso, Vincenzo mi pare che sia questo il filo conduttore, di reti, di alleanze, quindi un'esperienza che potrà funzionare, può funzionare soltanto se attorno a quell'esperienza si ricostruiscono delle reti, delle alleanze con l'ente locale. Abbiamo anche il sindaco di Napoli, non c'è? Beh, vieni, no? Quindi il messaggio mi pare importante, che questa esperienza potrà in qualche modo funzionare, potrà avere una possibilità, io spero tanto, di successo e di accompagnamento, quindi un po' una sorta di accompagnamento verso le persone che hanno bisogno, se dentro la comunità tutti i soggetti che sono responsabili, che in qualche modo hanno una responsabilità, piccolo o grande che siano, partecipano per insaldare questo tema che tu, Vincenzo, racconti e citi nel documento, di comunità più solidali tra di loro. E chiudo con due notazioni. La prima è che voi nel documento ribadite così l'intenzione di procedere, di assumere, di rinforzare le linee guida del sostegno a distanza. Linee guida che, qui c'è anche il professor Zamagni, sono state elaborate dall'Agenzia per il Teto Settore prima che fosse sciolta dal governo Monti, ma poi riprese anche in maniera un po' così, mi sembra, un po' faticosa anche dal Ministero del Welfare e che vuol dire allora che quel lavoro fatto qualche anno fa insieme è un lavoro che in qualche modo porterà qualche frutto e l'ultima battuta, e poi davvero mi fermo, lascio la parola a Vincenzo Curatola, che questa vostra esperienza in qualche modo si lega, se voi direte, ma forse un po' lontanamente, ma io credo in qualche modo abbia a che fare con questo dibattito sulla legge delega di riforma del Teto Settore, perché vedete, quella legge delega di riforma del Teto Settore che adesso è in dibattito al Senato e speriamo giunga, torni presto alla Camera per essere definitivamente approvata, è una legge che avrà successo non soltanto perché è un buon testo, perché poi i parlamentari sono impegnati a fare dei buoni testi, se possibile, e non sempre ci riescono, ma soprattutto se attorno a quella legge si crea, dico spesso io, un movimento, cioè si rianima un'esperienza associativa, se c'è una sorta di mobilitazione, allora capite che esperienze come le vostre, che sembrano un po' lato, lontane dal dibattito sulla riforma del Teto Settore, sui suoi articoli, sulla fiscalità, sull'impresa sociale, ecco, uno dice, ecco, però queste esperienze in qualche modo avranno il merito di far sì che quella legge scritta, spero bene, e anche utile per il terzo settore, venga poi animata e coltivata, soprattutto dalle associazioni di terzo settore e soprattutto producendo nuove esperienze, perché noi abbiamo bisogno davvero di nuove esperienze. E guardate, lo dico anche un po' da parlamentare, non ci aspettiamo tantissimo dalle esperienze che proverranno, e lo dico con molto rispetto, dal pubblico, perché il pubblico talvolta in qualche modo si trova irrigidito, si trova in qualche modo dentro, deve agire dentro un quadro normativo che gli impedisce talvolta quella flessibilità, quella capacità di intercettare subito i bisogni e le speranze. E quindi, quali sono oggi i soggetti che appunto con gli enti locali, con le strutture anche pubbliche, possono in qualche modo produrre e dare segnali di innovazione? Io credo appunto alle associazioni che su questi fronti decidono di aprire nuove frontiere. E credo che voi siate una di queste, quindi credo che questa esperienza, Vincenzo, che voi avviate nel Sud, sia un'esperienza importantissima. Io credo che, insomma, fra un anno, quando voi riterete opportuno, un bilancio sarà utile farlo, perché se l'esperienza produrrà più coesione sociale, più aiuto, più accompagnamento, non l'esistenzialismo, ma il sostegno alle famiglie, a coloro che hanno bisogno di uscire da una situazione di emarginazione e una situazione invece di cittadinanza di serie A, io credo che questa esperienza meriterà la dovuta attenzione e anche magari la possibilità di moltiplicarla sui territori non solo al Sud, ma anche al Nord, perché non è che il Nord viaggi tanto, tanto bene. Insomma, il Nord e il Sud ha i suoi picchi di fatica, ma il Nord, oggi, sapete, a macchia di lopardo, vive situazioni difficilissime anche di fatica del vivere quotidiano. Chiudo soltanto che, io spero davvero che questa esperienza sia sotto il segno della trasparenza e della vostra capacità di rendere conto su tutto, perché questo tema della legalità, della trasparenza, del rendere conto, dell'usare bene le risorse, del misurare anche l'efficacia di un intervento, oggi siano questioni ineludibili. Voi leggete, ahimè, e io sono dentro anche una commissione di inchiesta sulla vicenda dei migranti, e ahimè una parte di questa vicenda coinvolge anche alcune realtà di terzo settore, e non vi nascondo un po' a volte il dispiacere, a volte il rammarico di vedere cose che forse non avrei voluto vedere. Quindi l'invito è agire con coraggio, trasparenza e farlo bene, perché credo che questo Paese un po' se lo aspetti. Grazie. Vincenzo. Buongiorno a tutti, ringrazio Edo, patriarca, che non solo ci ha dato una mano per organizzare questa conferenza stampa, grazie anche al Centro Nazionale per il Volontariato, ma lui è uno che crede nel sostegno a distanza almeno da vent'anni, penso. Cioè da quando iniziavamo a cercare, cercare di mettere insieme una rete e di farci anche interpreti verso le istituzioni per un raccordo fra quello che è l'iniziativa privata e quello che è l'iniziativa pubblica. Non sapevamo neanche quale istituzione era la nostra referente. Poi le cose hanno camminato, anche grazie a molti impegni che ci siamo presi. E adesso questa campagna che presentiamo è una sfida, perché il discorso di agire in Italia con il sostegno a distanza, cioè intraprendere delle azioni di sostegno a distanza in Italia, è una novità, risponde a un'esigenza, come ha detto Edo pure prima, di crisi economica, ma anche crisi di rapporti fra le varie identità che stanno nel nostro Paese, che ormai è un Paese, diciamo, arcobaleno. però è anche un far riscoprire il significato del sostegno a distanza come, diciamo, forma non solo economica, ma anche relazionale, di rapporti, di capitale sociale, di società del futuro. Ecco, penso che questo è il dato più importante. Il titolo che abbiamo messo, il SAD emigra in Italia, è un po' provocatorio, secondo me, perché effettivamente il SAD, cioè il sostegno a distanza, è stato sempre in Italia, sia perché sono stati gli italiani degli attori di questo, sia perché la parte, diciamo, di conoscenze, di mondialità, di capacità di rapporto con culture diverse, con società diverse, che noi abbiamo portato nelle scuole italiane, abbiamo portato nella società italiana, nei nostri territori, è un'attività che appunto origina con il sostegno a distanza. Noi abbiamo guardato poi il lato economico e abbiamo detto va bene, il sostegno a distanza si fa all'estero. Oggi, guardando il lato economico, diciamo, interveniamo pure in Italia. Però ecco, ci sono anche questi, diciamo, aspetti che quindi mi piace sottolineare perché è la novità, diciamo, di questa campagna. Cioè, portare il sostegno a distanza in Italia vuol dire realizzare solidarietà fra le persone, solidarietà con chi sta in difficoltà economica di mancanza di diritti e tante altre. Significa portare in Italia rapporti di vicinanza umana, come cerchiamo di portarli nei progetti all'estero e maggiormente in Italia perché viviamo nella stessa comunità e far, diciamo, scaturire da questa solidarietà e da questa vicinanza la promozione della famiglia e della società nel nostro paese. Che poi è il dato forse più interessante che ringrazio la fondazione con il Sud che ci ha saputo cogliere diciamo questo aspetto quando ha fatto il bando rivolto appunto al volontariato ma al welfare locale perché ha colto proprio l'aspetto della coesione sociale e del welfare che produce coesione sociale che produce quindi diciamo comunità e capacità sul territorio di superare le difficoltà ecco che ci ha quindi anche aperto di più gli occhi sul fatto che la nostra esperienza è utile di più in questo momento anche in Italia di più di prima ecco per questo diciamo nel progetto che la fondazione Sud ha diciamo contribuito con ForumSAD la parte finale è proprio quella di una campagna di promozione del sostegno a distanza in Italia dicevo perché c'è la crisi economica e quindi in Italia i dati li conoscete insomma l'aumento della povertà le famiglie non solo immigrate ma anche italiane che perdono lavoro che hanno bisogno diciamo di pacchi alimentari alla Caritas ci davano tutti i dati per cui la gente che si rivolge a loro è molto cresciuta in questi anni cioè ecco la crisi economica ha portato quindi il nostro paese in una situazione diciamo di povertà reale in cui gli interventi pubblici e questo si può vedere dai dati su welfare cioè da quanto lo Stato ha stanziato in questi anni per il welfare ecco purtroppo il pubblico non riesce ad affrontare questa situazione i fondi sono sempre di meno le risposte sono sempre più complesse e c'è bisogno di quell'alleanza fra istituzione e terzo settore per poter poi riuscire veramente a superare e a invertire queste crisi l'aumento dell'immigrazione non è una causa della crisi aggrava la crisi aggrava perché oltre al discorso economico ci porta a un discorso di mancanza di diritti quindi di cittadini di serie A e di serie B che magari non sono neanche cittadini perché la legge ancora italiana non prevede che chi sta sul nostro territorio è cittadino come in altri stati lo può diventare chissà quando ma di fatto esistono persone nel nostro paese che hanno dei diritti e che non li hanno e quindi questo aumenta il disagio aumenta la complessità della risposta a questo fenomeno il sostegno a distanza sappiamo produce welfare perché come dicevo prima dà solidarietà assistenza risposte diciamo economiche di servizi a certe persone che ne sono escluse dà dei diritti a chi non ce l'ha e contemporaneamente provoca una coesione sociale perché non viene fornito solo un servizio o un diritto si verifica un convolgimento una relazione di vicinanza fra le persone che contribuiscono a questa solidarietà e le persone che la ricevono e quindi questo porta a un saper vivere insieme e costruire una comunità a misura di tutti la comunità a misura di tutti è una comunità che genera welfare proprio per il vincolo di solidarietà che unisce i suoi membri e questo quindi l'abbiamo chiamato welfare generativo quindi il sostegno a distanza è questo strumento allora il dato principale di questa campagna non è dare non so 8 euro a quell'immigrato che sta in Italia o a quell'italiano che è in stato di povertà e creare questi luoghi di comunità di welfare rigenerativo che possono essere quindi delle buone esperienze da divulgare come diceva Edo anche nel resto del paese partiamo con le regioni meridionali grazie alla fondazione con il sud è diciamo un privilegio per queste regioni partire con questa azione ma è anche una sfida e una responsabilità perché se riesce questa esperienza abbiamo trovato per tutto il paese un modo per diciamo dare un'ulteriore risposta alla crisi e alle povertà e alle diseguaglianze che noi vediamo continuano a aumentare ma diciamo il sostegno a distanza è anche un elemento culturale ovvio nel senso nel momento in cui si attua una relazione si produce cultura o si interviene su schemi culturali allora se si impara a rapportarsi fra le persone diverse se si impara a conoscersi la cultura diventa una cultura più collettiva diventa una cultura che non è del paese che si arrocca e che dice no io sto bene così non voglio avere niente a che fare con quell'altro oppure si attua uno scontro sociale ognuno per mantenere quello che ha e cercare di far fronte così alla crisi che c'è ma è una cultura proprio solidale nel senso di capire che solamente attraverso un bene collettivo cioè non star bene tutti si ha una possibilità di futuro per tutti perché la cultura che abbiamo adesso è una cultura che non ci dà futuro non lo dà all'immigrato o al povero italiano che appunto ha perso il lavoro o altro non lo dà a chi ancora mantiene quel posto di lavoro oppure ha la fortuna di non dover emigrare anche tanti italiani emigrano perché perché comunque poi queste contraddizioni vanno a incidere sul suo futuro e quindi glielo tolgono ecco che se non si cambia un modo di essere complessivo e quindi se non c'è il predominio il rafforzamento di una cultura di vincoli solidali che poi si riflette naturalmente in azioni istituzionali perché le istituzioni si basano poi sulla cultura e su quello che è diciamo l'esperienza dei popoli se non avviene questo non avviene anche diciamo il cambiamento fra le istituzioni del nostro paese e con quelle degli altri paesi è un processo in cui abbiamo capito che noi non possiamo stare fuori perché non ha senso mettere le toppe a un vestito rotto lo facciamo col sostegno a distanza e lo continueremo a fare però non ha senso se non cerchiamo di costruire poi un cambiamento e questo cambiamento come abbiamo come l'esperienza che stiamo facendo nelle regioni meridionali ma in tanti altri posti non si attua se non in rete se non entrando in alleanza come diceva prima Edo con altri soggetti istituzionali del terzo settore del mondo profit che in qualche modo si coinvolgono e si convincono che è utile a tutti questo percorso quindi il titolo che noi abbiamo messo e che la fondazione con il sud ha accolto di questo progetto è proprio questo reti di sostegno a distanza costruiscono comunità solidali che rigenerano welfare e la sintesi di questo tipo di obiettivo allora per entrare nel concreto la nostra campagna che partirà a settembre nelle regioni meridionali non è una campagna di raccolta fondi è una campagna di coinvolgimento delle persone questo noi ci vorremmo porre come obiettivo chiaramente queste persone poi applicheranno la solidarietà anche economica però è il coinvolgimento delle persone che riuscirà a cambiare le situazioni a costruire delle regioni meridionali o dei territori di quella città o di quel quartiere più solidali e più diciamo pronti per un futuro diverso il sostegno a distanza interverrà e interviene adesso all'estero per dare a tutte le persone con cui entriamo in contatto con cui possiamo diciamo intervenire il diritto a non emigrare è quello che diciamo al 90% le nostre associazioni fanno e non è un'azione che riguarda solamente quella persona in quel paese è un'azione che riguarda noi perché se una persona poi riesce a stare nel suo paese e ha tutte le possibilità per vivere bene poi diciamo con noi attuerà un diverso rapporto un rapporto di sviluppo non un rapporto di dover venire nel nostro paese cercando poi di andare in altri in condizioni di non poterci dare un suo contributo perché sta in una situazione disperata e così via e noi dover trovare anche diciamo forme ulteriori di welfare e di risposta verso queste situazioni ecco il sostegno a distanza io penso che ha fatto molto in questa direzione e va promosso ancora perché se ci sono un milione e mezzo di italiani più o meno che fanno sostegno a distanza se ce ne fossero il doppio e il triplo si avrebbe un impatto diciamo anche sui temi dell'emigrazione e della povertà diverso ecco questo dipende da come siamo capaci noi di promuoverlo e le associazioni qui presenti che ringrazio hanno tutte questa convinzione e di quanto poi anche gli altri soggetti a partire dalle istituzioni capiscono che è un vantaggio per tutti a livello di interventi nel nostro paese le esperienze alcune esperienze di sostegno a distanza si sono già realizzate anche con le nostre associazioni la campagna vuole diciamo valorizzarle ed estenderle e ci sono per esempio progetti per il rientro degli immigrati per l'implementazione delle rimesse degli immigrati stessi inserendoli in progetti di sostegno a distanza progetti di formazione per diciamo poter poi dare all'immigrato o all'italiano ulteriori capacità e possibilità proprio in una società di crisi di potersi inserire di avere opportunità di lavoro progetti di cittadinanza qui diciamo abbiamo detto della mancanza dei diritti ma anche diciamo delle possibilità di intervenire con con ruolo attivo all'interno delle comunità e questo sappiamo si può sviluppare solamente se le persone hanno già soddisfatto i bisogni primari per dire o i bisogni diciamo quelli che li portano a poter dare agli altri e non li concentrano solamente sul fatto di non avere una sicurezza per il domani o il dopodomani ecco che quindi i diritti di cittadinanza è una forma diciamo importante di coinvolgimento che il sostegno a distanza può portare nel nostro paese come la sta portando all'estero pari opportunità è un po' l'altro tema che è tipico del sostegno a distanza e qui nel nostro paese stiamo vedendo che le pari opportunità stanno sempre diminuendo e quindi anche questo è un'azione che rientrerà in questa campagna l'avvio di attività economiche questo consegue a progetti di formazione perché un dato del sostegno a distanza è la sua concretezza l'esperienza che noi abbiamo realizzato in questi anni in tanti paesi non è diamo un contributo economico e poi non sappiamo che cosa succede noi lo diamo e tanti cittadini italiani lo danno anche con sacrificio perché continuano nonostante la crisi perché poi sanno che quella persona avvierà un'attività di lavoro avrà un pezzo di terra da coltivare avrà un laboratorio di tagliacucito che gli darà da essere autonomo ecco tutte esperienze che noi abbiamo realizzato e che in cui gli italiani credono e che possono essere riportate anche qui in Italia come dicevo questa questa campagna coinvolge diversi soggetti che sono le 36 associazioni delle regioni meridionali gli enti locali delle regioni meridionali alcuni sono qui presenti e che sono raggruppati anche nell'elsad che è il coordinamento degli enti locali per il sostegno a distanza e l'elsad è un partner di questa campagna abbiamo qui il dottor Cozzolino in rappresentanza del sindaco De Magistris che attualmente è il coordinatore di 50 comuni e province elsad la fondazione Roma Solidale la fondazione Bene con cui esigleremo oggi un protocollo d'intesa proprio che parte da questo progetto il ministero del lavoro oggi non è potuto intervenire la sottosegretaria Biondelli ma ci abbiamo anche con loro un accordo che è inserito proprio nel progetto con la fondazione Sud il ministero dell'istruzione perché è importante il collegamento con le scuole e abbiamo un protocollo d'intesa che a giorni firmeremo con loro ecco questi alcuni soggetti diciamo già coinvolti poi ci sono tutti gli altri soggetti che a livello locale saranno diciamo rientreranno in questi progetti in questa campagna una campagna che ha l'obiettivo diciamo è la sfida di produrre solidarietà sviluppo e pace nel nostro paese se non avrà questi risultati sarà ben poca cosa ce ne sono tante di forme assistenziali nel nostro paese di interventi che sono anche quelli da potenziare però ecco il nostro sostegno a distanza dappertutto ha questi tre obiettivi solidarietà sviluppo e pace sono i riscontri che noi poi facciamo quando arriviamo a dire il nostro intervento nel territorio è finito vanno avanti da soli perché hanno queste tre diciamo dimensioni ecco io termino qui sono stato lungo scusate ma è un po' complesso il discorso ringrazio diciamo la fondazione sud il professor Carlo Borgomeo che non è potuto venire però c'è il direttore della fondazione sud Marco Imperiale ecco darei a lui la parola e poi il professor Stefano Zamagni che ci ha sempre seguito dalle tempi dell'agenzia delle Ollus il dottor Cozzolino che è per l'ELSAD e poi le domande dei giornalisti e delle persone presenti che ringrazio ancora perché vengono da tante parti del nostro paese grazie 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 presidente per l'invito e grazie all'onorevole anche per per l'ospitalità porto naturalmente i saluti del presidente Borgomeo che per impegni personali sopravvenuti all'ultimo momento non è potuto essere presente io dirò tre cose telegrafiche insomma cercherò di essere breve innanzitutto forse molti qui sanno cos'è la fondazione con il sud ma io comincio sempre ricordandolo perché magari non tutti lo sanno la fondazione con il sud nasce nel 2006 per un patto per un accordo molto importante tra il forum del terzo settore e le fondazioni di origine bancaria italiane per garantire nel mezzogiorno d'Italia quelle erogazioni a favore della società civile che le fondazioni di origine bancaria garantiscono nei territori in cui operano forse sapete che nel sud Italia purtroppo le fondazioni di origine bancaria sopravvissute all'epoca delle casse di risparmio sono poche pochissime e quelle che ci sono non riescono a derogare risorse sufficienti tranne il caso della Sardegna è l'unico dei territori da noi coperti che ha una fondazione di origine bancaria di dimensioni ragguardevoli quindi non so se è una battuta di cattivo gusto ma non posso non farla direi che la fondazione con il sud è un esempio di sostegno a distanza cioè a un certo punto le fondazioni di origine bancaria italiane del nord hanno volontariamente con un accordo tra l'altro molto importante con il forum deciso di sostenere anche al sud un intervento che comunque è bene sottolinearlo dal punto di vista quantitativo non è paragonabile a quello delle regioni del nord cioè esiste tra sud e nord un divario anche in questo caso che è anche molto più ampio di quello che tipicamente viene registrato con gli indici che solitamente si utilizzano la fondazione con il sud naturalmente appunto interviene a favore della società civile perché crede molto nella cosiddetta infrastrutturazione sociale addirittura in questo possiamo definirci dei radicali qui c'è il professor Stefano Zamanni che conosce queste cose ovviamente molto meglio di me e sa che esiste addirittura e è cresciuto negli ultimi vent'anni un filone storiografico che sostiene che la crescita della società civile sarebbe addirittura un presupposto della crescita diciamo economica adesso noi naturalmente non siamo esperti di paradigmi storiografici anche se io personalmente ho un'insana una passione per essi però dal punto di vista della nostra missione noi siamo assolutamente diciamo politicamente quasi spiritualmente convinti di questo e cioè che sia assolutamente necessario favorire la crescita di determinati indici sia necessario accumulare ricchezza sociale capitale sociale per consentire lo sviluppo economico magari non è un paradigma valido in assoluto ma credo sia assolutamente valido al giorno d'oggi quindi ad esempio la scuola ma anche le reti di supporto che le comunità riescono a sviluppare per supportare i componenti della propria comunità che sono in condizioni di svantaggio che sono in condizioni di maggiore fragilità sono elementi fondamentali per garantire anche lo sviluppo economico il tema del sostegno a distanza apparentemente non è proprio nelle corde di quello che la fondazione fa nel senso che la fondazione favorisce appunto il sostegno delle reti di vicinato delle comunità verso se stesse come dire però in realtà poi a ben vedere non è così almeno per due motivi il primo che è un po' più ovvio ma in realtà non lo è è che in realtà la solidarietà come dire i valori della solidarietà non sono limitabili a chi è vicino o a chi è lontano perché altrimenti diventa una solidarietà parziale e probabilmente per definizione una solidarietà parziale non è più solidarietà è qualcos'altro però questo è un discorso insomma che non mi interessa fare in questo caso quello che invece mi interessa di più visto il ruolo che ricopre e quello che facciamo che la fondazione fa e l'importanza di questo argomento per il sud naturalmente sarò brevissimo un argomento molto interessante perché l'emigrazione e l'immigrazione hanno attraversato la storia del sud come forse pochi altri territori perché sappiamo benissimo che il sud è da almeno da oltre un secolo dalla fine dell'ottocento una terra da cui partono tantissime persone io sono una di quelle mi considero un emigrato del sud c'è stata una fase abbastanza limitata tra gli anni 70 e 80 in cui questo fenomeno è decresciuto probabilmente soprattutto in relazione agli interventi dello stato nel sud e adesso invece è cominciato a crescere tra l'altro con caratteristiche nuove ma dal punto di vista dimensionale sempre rimane un fenomeno molto importante che provoca sfaldamento che provoca difficoltà di carattere culturale di carattere sociale nelle comunità del sud il sud però sta diventando anche il fulcro la principale porta di accesso per le nuove ondate di immigrati che arrivano in Europa che arrivano in Occidente quindi ha una responsabilità una funzione molto importante da questo punto di vista tra l'altro rispetto a queste tematiche la fondazione con il sud sta cercando anche di inquadrare in maniera nuova il tema naturalmente perché ci investe investe il nostro ruolo e lo stiamo facendo anche in collaborazione con le altre fondazioni del nord Italia ed europee quindi benvengano le reti che struttù come quella come il SAD che strutturano una cultura fattiva del sostegno a distanza che nel caso del sud appunto significa supporto a favore del sud e supporto del sud a favore di territori meno fortunati infine una parola su quello che accennava l'onorevole patriarca riguardo alle tristi vicende di cronaca di questi giorni naturalmente la fondazione con il sud come sapete interviene in territori abbastanza delicati da questo punto di vista perché finanziamo naturalmente i territori più sfortunati le grandi aree metropolitane di Palermo e Napoli piuttosto che la Locride dove ci sono alcuni dei nostri interventi più interessanti abbiamo tutto naturalmente le nostre procedure interne quello però di cui che cerchiamo di curare maggiormente il controllo diretto delle attività che vengono finanziate e vengono svolte chi ha avuto la fortuna spero la fortuna di essere finanziato dalla fondazione lo sa noi cerchiamo di guardare da vicino le cose di collaborare e di effettuare un monitoraggio che non è solo burocratico amministrativo perché c'è anche quello ma è anche un controllo diretto un peer monitoring diciamo perché ci consideriamo pari ci consideriamo pienamente coinvolti nelle iniziative che finanziamo grazie ancora al presidente e buon lavoro grazie 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 ringrazio l'amico Vincenzo Curatola per l'invito che mi ha rivolto a essere presente in questa occasione e mi complimento con il forum per aver dato vita a questa nuova fase della sua attività e cioè il SAD in Italia questa è una novità di poco di grande rilievo come cercherò di dire ma quali ragioni ci sono per difendere e sostenere un'iniziativa come il SAD il sostegno a distanza tre ne indico non perché siano le uniche ma quelle che reputo di maggiore rilevanza il prima è che il SAD è antipaternalistico la seconda è che il SAD è un'iniziativa pro sviluppo e la terza è che il SAD concorre a concorre a risolvere il problema dei flussi migratori poche parole di commento cosa vuol dire che è antipaternalistico vuol dire che l'aiuto che il SAD elargisce è avviene nel rispetto delle identità dei portatori di bisogno rispettare le identità come sappiamo è molto di più che tollerare il rispetto è più avanti della tolleranza perché tutte le volte in cui per aiutare il portatore di bisogno noi lo estraniamo dal suo contesto familiare locale eccetera di fatto facciamo un atto di violenza questo è un punto che mai si sottolinea io capisco che in certe situazioni non si possa fare diversamente però oggettivamente il portatore di bisogni proprio perché è portatore di bisogno non perciò stesso deve rinunciare alla propria identità e guardate che identità è parola più forte dei diritti tutti noi parliamo i diritti va bene però non è la parola ultima quella del diritto è l'identità perché se io per aiutarti che sei affamato ti porto via dagli affetti familiari l'esempio che si fa sempre è chiaro che sfamo ti sfamo cioè dire stoddisfo quel bisogno materiale ma al tempo stesso ti creo un altro bisogno ed è inutile poi che qualcuno venga a parlare dicendo che comunque l'affetto può perché l'affetto non è come il cibo il cibo può essere appunto trasferito nelle maniere che sappiamo ma gli affetti non avvengono la seconda ragione è che è pro sviluppo perché il SAD è pro sviluppo perché scongiura in una forma rilevante quel fenomeno che ormai viene chiamato da anni il brain drain cioè la fuga dei cervelli in inglese brain drain e questo vale sia al contesto internazionale sia nel caso nostro per l'Italia ora noi sappiamo che c'è una differenza enorme tra le migrazioni del passato e quella di oggi e cioè che mentre nel passato emigravano e noi italiani ne sappiamo qualcosa gli ultimi nella scala sociale oggi chi emigra sono i primi cioè quelli che hanno già raggiunto hanno un potenziale di sviluppo più alto ed emigrono proprio perché sanno che andando in altri territori potranno ottenere risultati migliori in passato in passato vuol dire fino agli anni dell'immediato secondo dopoguerra non era così tutti noi italiani ricordiamo chi erano gli emigranti italiani del sud quelli che abbandonavano le campagne quelli che non erano avevano titolo di studio e così oggi non è più così anche dal nostro sud Italia emigrano i cervelli e questo a voi capite che è un fattore di impoverimento ulteriore io insegno all'università di Bologna Bologna è un'università molto speciale da questo punto di vista perché il 35% dei suoi studenti sono tutti del sud Italia delle regioni del sud quindi tanto 35% e quando ci sono le sedute di laurea finale la domanda di rito che si tende a fare che almeno io faccio al giovane o alla giovane che si sta laureando è adesso cosa andrai a fare io la risposta è alla domanda ma tornerai nella tua terra la risposta è no io cerco lavoro qua in Bologna in Emilia o al nord eccetera e alla domanda ma perché non ti senti in un certo senso in dovere morale di restituire alla tua terra il contributo che tu da neolaureato e quindi dopo aver acquisito una certa competenza saresti in grado di dare la risposta è quella che poi vi immaginate tutti perché giù non c'è lavoro che è un'espressione inadeguato in generale i laureati in economia non rispondono così perché verrebbero bocciati perché il lavoro non è una materia prima che esiste in quantità data se io dico che c'è una miniera di carbone ad un certo punto posso dire non c'è più carbone perché ho esaurito la vena ma il lavoro non è una risorsa naturale il lavoro viene creato quindi non puoi dire tu che non c'è tu puoi dire io non sono stato capace di crearlo oppure altri come me o prima di me non sono stati capaci di crearlo perché il lavoro ripeto non è una risorsa naturale è frutto della creatività umana e se è creatività vuol dire che è l'uomo che lo crea e cosa vuol dire che lo crea che prima non c'era quindi dire non c'è lavoro i nostri studenti non potrebbero laurearsi perché è un errore teorico gravissimo però per colpa dei media che continuano a veicolare queste false idee molti ripetono queste sciocchezze che sono deleterie perché evidentemente capite perché questo ulteriormente aggrava la situazione perché se delle ragioni del sud non parliamo poi quelli dei paesi cosiddetti via di sviluppo il problema lì è ancora più acuto e più grave emigrano i cervelli ditemi voi chi andrà a creare il lavoro perché sono i cervelli cioè coloro i quali hanno acquisito una certa expertise in questo e quell'altro che sono in grado di creare nuove opportunità ecco allora perché il sostegno a distanza è pro sviluppo perché gli amici che e le varie associazioni ho visto qui che si impegnano in questa direzione cercano ovviamente nei limiti delle possibilità di trattenere in situ in loco quelle energie appunto intellettive e direi della personalità umana che possono poi generare e questo è un punto che quasi mai viene sottolineato il terzo alla terza ragione è che contribuisce appunto a risolvere se mai riusciremo a farlo il problema dei flussi migratori ora noi sapete che i flussi migratori oggi hanno anch'essi due componenti fondamentali da un lato coloro che emigrano per ragioni di difesa da situazioni di mancanza violenza e questi sono i richiedenti asilo però dovete sapere che la percentuale più alta di migranti non appartiene a questa categoria anche se i giornali parlano sempre di questi perché sono i casi più eclatanti la percentuale più alta è formata da coloro i quali emigrano per cercare lavoro in altre parole quelli che in inglese si chiamano i migrant workers cioè i lavoratori migranti è chiaro che in questi ultimi tempi per le note ragioni è predominante la componente dei richiedenti asilo questo è evidente ma questa è una situazione contingente che durerà speriamo ancora poco ma che comunque non è in grado di cambiare i dati assoluti dei migranti ora se è vero come i dati ci informano che questa è la causa principale è la ricerca di occasioni lavorative quindi di capacità di ottenere un reddito è evidente che il forum il forum il SAD il sostegno a distanza va esattamente in questa direzione nella misura in cui come diceva prima Vincenzo queste interventi di sostegno a distanza tendono a mantenere la gente nel territorio investendo sul loro capitale umano perché lo sapete benissimo con il sostegno a distanza si aiutano le famiglie a mandare a scuola i figli non si dà un assegno e dire fai quello che vuoi gli aiuti sono tutti finalizzati ad obiettivi ben specifici questo è un modo molto direi efficace per contribuire a questo voi sapete che se il problema non verrà finalmente risolto e devo dire che ho letto con attenzione il piano triennale di programmazione della cooperazione e dello sviluppo del governo solo in sette righe di un documento di 54 di 58 pagine precisamente a pagina 57 sono dedicate a fenomeni o a esperienze come quelle del SAT e io dico chi può intervenga perché questo è molto grave cioè in un documento che ridisegna per i prossimi tre anni le strategie di cooperazione allo sviluppo dell'Italia sotto il titolo coinvolgere nuovi attori mi sarei aspettato di vedere tra i nuovi attori anche il SAT o espressioni analoghe comunque invece no si dice solo bisogna coinvolgere nuovi attori perché i fondi pubblici non bastano che anche questa è la scoperta dell'acqua calda come tutti sanno e quindi mentre invece bisognava perché un conto è che ci siano nuovi attori che si limitano a trasferire denaro e altro conto è come il SAT si sta facendo ha fatto e sta facendo che come ho ricordato poc'anzi il denaro viene finalizzato a raggiungimento di determinati obiettivi questo è un punto che bisogna siccome si tratta di una bozza sono certo che qualcuno lo farà presente perché in un documento di questo tipo che girerà poi per il mondo rischiamo di farci prendere in giro dagli stranieri come spesso capita per queste disattenzioni perché non c'è una volontà contraria perché c'è il titoletto coinvolgere nuovi attori quindi c'è la consapevolezza però sembra sempre che all'attuazione pratica manchi l'indicazione ecco allora queste tre ragioni sono molto importanti più che sufficienti per rilanciare e quello che ho detto vale in generale ma vale in particolare anche per il nostro mezzogiorno d'Italia o in generale le aree del nostro paese che hanno più bisogno di queste forme di intervento nel caso nostro italiano c'è una specificità che evidentemente mette conto dire ed è appunto lo accennava l'onorevole patriarca e anche il direttore della fondazione con il sud questa vexata questione della carenza di capitale sociale ora voi sapete che il capitale sociale che è una parola che ormai tutti usano a volte fino a abusata non è altro che l'insieme delle reti di fiducia dire fiducia e dire capitale sociale è la stessa cosa stessa perché il capitale sociale è appunto l'insieme delle reti fiduciarie che si vanno ad intessere tra persone che vivono in certi territori benissimo perché la fiducia è così importante perché la fiducia è il prerequisito fondamentale per lo sviluppo mai ci potrà essere fiducia se sviluppo se non c'è fiducia però quello che ci si dimentica di dire è che il capitale sociale quindi le reti fiduciarie sono di due tipi quelle che il grande politologo americano Patnam Robert Patnam che è quello che è venuto in Italia l'unico che ha studiato l'Italia come dio comanda è stato quattro anni in Italia per studiare il problema del mezzogiorno perché questo politologo americano che ora insegna all'università di Princeton non riusciva a capacitarsi della seguente come è possibile che un'area dell'Italia del sud che occupa circa un terzo della popolazione mondiale un'area che ha un passato glorioso perché la civilizzazione non la civiltà la civilizzazione in Italia è partita dal sud non è partita dal nord io lo dico sempre sempre bisogna richiamarlo perché molti è partita dalla Sicilia sappiamo eccetera allora e com'è possibile che fino al 1715 1715 Napoli era la prima città del mondo mondo Londra nel 1715 aveva 5.000 abitanti 5.000 era un borgo Londra Napoli era la più fiorente culturalmente è l'università di Napoli sappiamo economicamente e civilmente allora la domanda di Patton da bravo studioso americano è come è possibile che un territorio così sia declinato e nonostante gli interventi della cassa per il mezzogiorno e 10.000 altre IRI eccetera non sia riuscito dopo 70 anni o 60 anni di intervento straordinario ad agganciare il nord ebbene sapete qual è stata la sua risposta perché nel sud c'è un capitale sociale sbagliato non c'è quello buono perché c'è quello bonding e non quello bridging bisogna dirlo in inglese perché non c'è la traduzione bonding vuol dire legame il catenaccio bridging vuol dire ponte fare ponti e cioè le reti di fiducia al sud sono a corto raggio ecco cos'è il bonding cioè ci si fida solo tra membri della stessa famiglia dello stesso casato o degli amici in senso stretto non ci si fida degli altri mentre il capitale sociale bridging vuol dire che io apro le relazioni di fiducia con tutti virtualmente con tutti getto ponti anche con chi eccetera e allora adesso capite subito il capitale sociale è esattamente come il colesterolo voi sapete che nel corpo umano il colesterolo è i due tipi quello buono e quello cattivo e noi ci ammagliamo ci dicono i medici sia quando il colesterolo cattivo è troppo alto ma anche quando il colesterolo buono è troppo basso e allora bisogna mangiare di omega 3 perché bisogna mangiare l'omega 3 perché l'omega 3 alza il colesterolo ma quello buono non quello cattivo ecco è la stessa cosa ebbene il SAD è un modo ovviamente non da solo e non unico per aumentare il capitale sociale di tipo bridging perché con il SAD il sostegno a distanza vuol dire che si gettono ponti e badate che quando uno del sud vede che c'è qualcuno del nord che lo sostiene a distanza questo provoca in chi riceve l'aiuto come un cambiamento radicale interiore cioè uno va in crisi dice ma come quello là che sta a mille chilometri mi sta aiutando come mai io sono stato abituato si pensa ad essere aiutato dal vicino di casa dalla parrocchia se faccio parte di una parrocchia eccetera invece quello là magari non mi ha neanche visto non sa chi sono però mi aiuta ed è a mille chilometri allora vuol dire che c'è una corda un legame che ci unisce tutti indipendentemente dalla posizione geografica e che è il legame della comune umanità e quando questo avviene avviene il cambiamento così negli ultimi anni sto seguendo diverse realtà del sud a livello di cooperative sociali di fondazioni fondazioni locali fondazioni di comunità eccetera che sono nate e si stanno sviluppando proprio ieri ero all'expo a Milano ho sentito la realizzazione di una realtà di Matera e di un'altra di Locri in Calabria che i fondatori hanno detto noi abbiamo cambiato quando abbiamo capito quello che stavo dicendo che cioè nonostante le differenze eccetera c'è un comune ecco allora perché il SAD è importante perché il SAD senza usare parole eccetera ma coi fatti dimostra che è possibile gettare ponti e quindi creare il capitale sociale buono il colesterolo buono da qui lo sviluppo è grande quindi grazie per la vostra testimonianza e la vostra attività e vi faccio ovviamente tanto i cari auguri per continuare grazie vi ringrazio e io sono libero c'è la collega lì a Locatelli che insomma Pia scusa Pia Locatelli che è con noi anche lei attenta a queste cose tra i protagonisti nell'agenzia nell'agenzia sì sì nel tavolo sì 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 va bene grazie a tutti buona giornata buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti